Siamo qui con Maria Teresa Lodi, fondatrice titolare di Giacoinè, agenzia di Bergamo di traduzione e formazione linguistica nata nel 1987. Quanto conta l'esperienza sul campo nel vostro settore? Fondamentale, è assolutamente importante trovare il collaboratore giusto, il traduttore adeguato ad un ambito tecnico, ad un ambito legale, è fondamentale avere una competenza per offrire un servizio di eccellenza. A chi vi rivolgete? Ci rivolgiamo soprattutto alle aziende, principalmente, quindi traduzione di carattere tecnico, ma anche a studi legali, commerciali, enti, banche, istituti di credito, agenzie pubblicitarie. Il ventaglio è ampissimo. Tra i vostri clienti ci sono anche le aziende più importanti del territorio, come siete riusciti a conquistarle? Sicuramente con la capacità di proporre il traduttore giusto, competente, con una conoscenza tecnica adeguata al settore che proponiamo, rigorosamente madrelingua, una scelta studiata anche sulla scelta dei collaboratori che devono poi eseguire il lavoro di traduzione. Qual è il vostro vero valore aggiunto? Direi il vero valore aggiunto sono, col passare del tempo, l'acquisizione di banche dati terminologiche ampissime. Usiamo delle memorie di traduzione acquisite nel corso del tempo che sono personalizzate a seconda del cliente, del settore, una terminologia tecnica che viene implementata di anno in anno e 30 anni parlano da soli. In questi anni avete creato anche una divisione specifica per quanto riguarda la formazione linguistica. Come sono strutturati i corsi? Innanzitutto la necessità è stata richiamata dall'azienda stessa che oltre ad avere necessità di una traduzione aveva immediatamente capito il bisogno di creare competenze all'interno dell'azienda stessa, quindi la richiesta sempre maggiore di corsi di formazione a tutti i livelli, dal corso individuale al corso di gruppo ai corsi business elementari nelle aziende e all'interno della nostra struttura. Inoltre i corsi avete anche lanciato un'iniziativa qualche anno fa che ha fatto notizia a livello nazionale, ce ne può parlare? Sì, ci è piaciuto questo fatto di allargare la didattica ad un qualcosa di divertente, non i soliti corsi con i libri, i test d'ingresso, le solite attività didattiche. Abbiamo inserito un'attività ludica, divertente, la lingua durante un happy hour, delle serate di conversazione con dei docenti madrelingua. Ogni sera una lingua diversa perché ogni sera proponiamo le madrelingua da varie parti del mondo, Nuova Zelanda, Irlanda, Gallia, Scozia, America. L'obiettivo è quello di incontrarsi, chiacchierare, provare la propria capacità di ascolto e di espressione della propria conoscenza linguistica davanti ad un happy hour, un panino, una buona birra, ridendo e imparando una lingua.